Al periodo evolutivo. Domanda. Il pesce cane, che voi dite appartiene al periodo evolutivo chiamato dall'uomo pesci, che evoluzione ha? Guida. Non è un individuo evoluto, perché a quello stesso periodo appartiene un'entità come il delfino. Mota quindi il parametro. Ma il pesce cane, rispetto per esempio alla cavalletta, è un individuo evoluto.